Ci vediamo il 14 giugno a Rovereto, trovate tutte le informazioni sotto. Avete mai sentito parlare di antropocene? Penso di sì, in ambito geologico forse, ma soprattutto in ambito filosofico, o in ambito politico, no? Magari come slogan politico siamo nell'antropocene, dell'antropocene succede questo, questo e quest'altro. È un termine che è aumentato in modo veramente molto vistoso negli ultimi 15 anni. Guardate, questo è un grafico che abbiamo fatto noi, prendendo i dati delle pubblicazioni di Google Scholar, e guardate come è aumentata nel tempo la frequenza di questo termine. Antropocene viene dal greco, antropo umano, cene, nuovo, e dovrebbe corrispondere al nome di una nuova epoca, dovuta al fatto che le attività umane sono talmente tanto dirompenti da modificare i vari ecosistemi in giro per il mondo e avere un effetto su scala geologica, che si può vedere, creare una distinzione rispetto al passato. Eppure è da più di 15 anni che questo termine ha trasceso l'ambito geologico e ormai si usa in tante discipline diverse per intendere magari anche cose diverse. Eppure, proprio quest'anno, c'è stata una cosa un po' particolare. Proprio la comunità dei geologi ha rigettato, almeno dal punto di vista geologico, questo termine. Ecco, ma cosa è successo? E cosa significa davvero antropocene? Facciamo un passo alla volta e vi prometto che ne approfitterò anche per spiegarvi alcuni elementi di base di geologia e per capire come funziona la mente malata dei geologi. Però appunto, prendiamola alla larga. Ma prima, dato che sta arrivando l'estate, parliamo dello sponsor di questo video che è Cambly. Il periodo estivo, infatti, è il periodo migliore in cui dare un'accelerata alla propria conoscenza nell'ambito, appunto, dell'inglese sia perché si viaggia, sia perché probabilmente si ha più tempo libero e quindi ecco che qui Cambly viene in vostro aiuto. Cambly è una piattaforma di learning che vi permette di parlare con insegnanti ma delle lingue di inglese e quindi continuare a migliorare il vostro inglese parlato che è poi la competenza più importante nel mondo moderno. Si può fare da PC, si può fare anche da telefono e quindi significa che potenzialmente potete farlo ovunque in qualsiasi momento. Questa cosa, appunto, è importante e utile anche quando si viaggia. Persino in vacanza potete mettervi lì col vostro telefono e fare la vostra lezione. Proprio per farvi sfruttare il periodo estivo, Cambly ha messo a disposizione un piano specifico di tre mesi a cui potete iscrivervi entro il 13 giugno con uno sconto del 30%. In questo modo potrai puntare a migliorare il tuo inglese nei prossimi tre mesi a partire da soltanto 28 euro al mese. Vi direi come un'offerta speciale? Io di solito propongo sempre abbonamenti annuali, non trimestrali, e ti permette appunto di vedere come funziona anche Cambly per tre mesi e poi così poi si può valutare poi in autunno se farai anche un piano annuale. Sotto trovi il link, sotto trovi anche il codice ENTROPY30 che ti permette di avere questo sconto ma mi raccomando, eh, c'è il 13 giugno come scadenza. Ai geologi piacciono i sassi, ne vanno matti più dei pinguini di Adelia che li usano come merce di scambio per i rapporti sessuali. Questa cosa è vera, vi lascio il video in cui l'ho parlato sotto. Ma ancora più che ai sassi, a loro piace dare i nomi ai sassi. Non solo, guardandoli molto attentamente, raccogliendoli in giro per il mondo si sono accorti di un fatto. La Terra in tantissime parti sembra fatta a strati. Uno dei più grandi geologi di tutti i tempi, Stenone, mentre si divertiva a dimostrare che il cuore era un organo e che le glossopetre, cioè le pietre a forma di lingua, in realtà sono denti di squali estinti. Quanto era bello fare lo scienziato una volta? Quanto era facile? Vabbè, ebbe un'intuizione pazzesca. Una cosa molto chiara guardando questi strati. La roba vecchia si trova sotto, la roba nuova si trova sopra, almeno che non ci sia stata una qualche intrusione di qualche tipo, di solito vulcanica. Ecco, questa cosa è l'inizio della stratigrafia moderna. Questo vale anche per la successione dei fossili e quindi ecco che tanto si va più giù, tanto più si può capire cosa c'era prima a livello appunto della diversità biologica, per esempio. Tanto si va giù, tanto si va indietro nel tempo. Dato che i geologi devono darsi un tono, questa cosa l'hanno chiamato principio di sovrapposizione stratigrafica, perché legge del cesto del bucato non suonava abbastanza serio. Ma capite il punto? Una volta che i geologi hanno capito che la Terra è come una millefoglie, ecco che hanno trovato una nuova passione, dare i nomi agli strati. E dato che non c'è un limite alle ossessioni, ecco che si inventa anche un modo gerarchico per dare i nomi agli strati. Adesso ve lo spiego, è massima attenzione. Tutto è diviso in eoni. Gli eoni poi sono divisi in ere. Le ere sono divise in periodi, i periodi infine in epoche. Poi in realtà le epoche sarebbero divise in età, ma dell'età non frega niente a nessuno. Chiaramente noi ora siamo nell'ultima epoca, dell'ultimo periodo, dell'ultima era, dell'ultimo eone. Per capirci noi ora siamo nell'ultimo eone che è il fanerozoico, che si chiama così perché dovrebbe, e qua scusate se rido, corrispondere al periodo in cui c'è la vita visibile. Perché rido? Perché i geologi fanno partire tutto questo dal cambriano, ma ormai noi sappiamo che c'erano animali e anche altri organismi ben visibili anche prima. In particolare la famosa fauna di Ediacara, però appunto dai, un dibattito scientifico alla volta. Il fanerozoico è diviso in tre ere. Il paleozoico, il mesozoico e poi quello in cui siamo noi, il cenozoico. Il mesozoico è il periodo dei dinosauri non aviani, grandissimo periodo dei dinosauri, sostanzialmente inframezzato ovviamente dalle due più grandi probabilmente istinzioni di massa. La più grande è quella del Permiano Triassico, 251 milioni di anni fa, e poi appunto l'asteroide, 66 milioni di anni fa, che pone l'inizio del cenozoico. Il cenozoico è diviso in tre periodi. Il paleocene, il neocene, e il terzo, quello in cui siamo oggi, il quaternario. Il quaternario inizia poco tempo fa, circa 2,58 milioni di anni, che corrisponde più o meno all'inizio del genere Homo, nel senso che è più o meno quando si trovano i primi Homo habilis. E quindi, top, dai, abbiamo un'epoca molto giovane in cui siamo. Non c'è una durata definita dei periodi, nel senso, il neocene, quello prima di adesso, ne è durato circa 20 milioni di anni. Però appunto, pensate a altri periodi, tipo il Cretacico, che è particolarmente famoso, perché ci sono i dinosauri grossi, con i veramente grossi, che abbiamo, mi presento tutti quanti, i dinosauri che fanno grrrr. Ok, quello è durato 80 milioni di anni. Ecco, noi siamo solo all'inizio, 2,58, non sappiamo quando finisce, però appunto possiamo dire che per ora questo è il periodo più breve, no? In un periodo così piccolo, ci si potrebbe aspettare che il neocene non abbia ancora delle epoche, no? Delle divisioni, che per ora siamo ancora in un'unica epoca. Ma non è così. I geologi sono riusciti a trovare un punto ben definito 11.700 anni fa, che corrisponde a un periodo di grande innalzamento delle temperature, quindi anche innalzamento dei mari, e quindi ecco che possiamo avere già due epoche, il Pleistocene, e quello in cui siamo ora, brevissimo, l'Olocene. L'aspetto interessante è che il periodo in cui inizia l'Olocene è più o meno anche l'inizio della sperimentazione dell'agricoltura in diverse popolazioni umane, e quindi dopo abbiamo anche un punto che più o meno corrisponde, no? Una cosa particolarmente rilevante per noi. A questo punto vi sarà sorta una domanda, ma come si definisce esattamente un periodo, o un'era, un'epoca? Come si fa a definire il punto esatto, in cui appunto finisce qualcosa e inizia qualcos'altro? Ora, in alcuni casi abbiamo visto è facile, bam, un asteroide, eh, lì è facile capire che c'è un prima o un dopo. Bam, un'estinzione di massa della Madonna, è certo, facile lì. In altri casi ovviamente è più difficile. Quello che cercano i geologi sono dei chiari segni di discontinuità all'interno delle rocce che mostrano appunto un prima e un dopo. Una volta che hanno trovato questi punti in una o più parti del mondo, ecco che piazzano un golden spike, un chiodo d'oro, che però non è veramente d'oro, perché ci sta a essere dei pignoli per dicendo ah, non si dice cretaceo, si dice cretacico, però poi il chiodo è d'oro, eh? Geologi, come la mettiamo? Ci sono vari chiodi d'oro in Italia, anche quello che sancisce l'inizio del quaternario si trova nel comune di Cortone. Il punto che sancisce l'inizio dell'Olocene si trova, e qui veramente, tenetevi forte perché a me questa cosa ha completamente spiazzato nei ghiacci della Groellandia. E voi direte ma come nei ghiacci? Cioè, i geologi usano il ghiaccio come strato? Cioè, nel senso, va bene, va bene tutto, però cavolo, che strano. Comunque, ok, nei ghiacci della Groellandia a un certo punto si vede un cambio degli isotopi dell'ossigeno abbastanza evidente, si vede una differenza nell'accumulo di certe altre molecole e poi si vede un evidente cambio nella velocità con cui si formano nuovi strati di ghiaccio. appunto, la Terra è palesemente più calda. Arrivati a questo punto, ecco che possiamo capire bene cosa significa la proposta di aggiungere una nuova epoca. Dopo l'Olocene, ecco che siamo nell'Antropocene, un periodo in cui è abbastanza inopinabile che le attività umane stiano diventando una forza. Una forza, sicuramente ecologica, probabilmente anche geologica. E capiamoci, l'impatto dell'umanità è evidente sul nostro pianeta, no? Negli ultimi 50.000 anni abbiamo istinto una fetta enorme e degli animali che pesano più di 45 kg. Stiamo occupando il 50% della superficie terrestre con le nostre attività, in particolare con i pascoli e con l'agricoltura. Estraiamo materiali da qualsiasi parte del mondo, creiamo delle enormi cave oppure buchiamo e tiriamo su petrolio e carbone, facciamo dei buchi per attraversare le montagne, cambiamo i corsi dei fiumi e dei laghi, alteriamo i cicli biogeochimici dell'azoto e del fosforo e aumentiamo le concentrazioni di alcuni gas a effetto serra cambiando persino il clima. E alla luce di tutto questo ci sta anche, no? La proposta di tenerne conto di tutto questo con un nome. E antropocene per me va benissimo. Questa idea in realtà è particolarmente recente, è venuta a Paul Krutzen nel 2001, si tratta di un chimico dell'atmosfera che poi ha anche vinto il Nobel per le sue scoperte legate al buco nello zono e poi ecco che si è iniziato a parlare e ne hanno iniziato a parlare anche i geologi. È infatti nel 2009 che viene creato l'Antropocene Working Group che ha proprio l'obiettivo di cercare di capire se l'antropocene merita di diventare parte, no? Nella linea geologica del tempo. Il gruppo che era composto da 37 membri inizialmente doveva trovare un punto, no? Qual era il periodo migliore? Cioè, oggi? 50 anni fa? 100 anni fa? 200 anni fa? Come si sceglie un punto? E dopo anni di riflessione la proposta è stata il 1950. Il 1950 è un anno che in realtà ha un suo senso perché in un certo senso è l'inizio della cosetta grande accelerazione. Infatti a partire da lì l'umanità ha messo il turbo sulle sue attività umane in particolare per quanto riguarda l'estrazione per quanto riguarda tutto, tutta la crescita economica dal 1950 in poi ha avuto un'esplosione appunto. Tra parentesi esiste un bel libro che si chiama La Grande Accelerazione che racconta esattamente questo. Io lo consiglio veramente molto, aiuta molto a capire il mondo e come è cambiato il mondo prima del 1950 e dopo il 1950. Vi lascio il link sotto se volete per caso leggerlo. Successivamente sempre loro proposero che il posto migliore in cui andare a cercare il Golden Spike era sul fondo del lago Crawford in Ontario e proprio l'anno scorso ci fu l'annuncio che sul fondo del lago a un certo punto ci sono dei punti di discostamento in particolare ce n'è uno legato al 1952 a tracce di polonio dovuto alla prima esplosione della bomba idrogeno ma questa non era l'unica traccia ce n'erano altre come un cambio delle ceneri dovute all'uso dei combustibili fossili un aumento dei pesticidi e delle microplastiche e altro anche a questo punto la proposta di creare l'antropocene ha fatto il passo ulteriore serve l'approvazione e serve un'approvazione progressiva perché la società internazionale dei geologi è fatta a strati si parte traducendo in italiano dalla sottocommissione della stratigrafia del quaternario se poi qui viene approvata ecco che si passa all'unione internazionale di stratigrafia ed ecco che se viene approvato anche da loro si passa all'unione internazionale delle scienze geologiche perché tutto l'iter abbia successo deve esserci l'approvazione di almeno il 60% dei membri per ogni gruppo per ogni strato il fatto è che pochi mesi fa c'è stata la prima votazione che ha dato esito negativo su 21 persone votanti 12 hanno detto no suoniamo contrario all'antropocene quindi l'iter è finito ora questa cosa ha generato delle bagarre dentro al mondo dei geologi anche a questi livelli altissimi cioè banalmente tipo già state le critiche però hanno detto guardate che molti di voi la maggior parte di voi che hanno votato dentro alla sottocommissione del quaternario hanno superato i tempi per cui dovevano rimanerci dentro nel senso che dopo 12 anni uno non può far parte di quel gruppo eppure la maggior parte di voi ci sta dentro come la mettiamo fun fact questa cosa l'ha detta anche il presidente che anche lui però ha superato gli anni d'altro canto però la commissione internazionalista di antigrafia ha detto che il voto della sottocommissione era valido almeno si è votato e la maggior parte della gente ha detto che era valido ci sono stati vari motivi addotti da chi ha votato contro per esempio uno riguarda il tempo un'epoca di 70 anni appunto un'epoca geologica di 70 anni non ha molto senso cioè forse è troppo presto banalmente sarebbe troppo corta 70 anni rispetto a 11.000 anni ma soprattutto milioni di anni che è di solito la durata media di un'epoca c'è chi fa poi notare che forse c'è un errore di interpretazione nel senso che l'antropocene più che un'epoca geologica è più che altro un evento geologico cioè è qualcosa che sta succedendo e ci sarà un prima e un dopo ora siamo in un durante è più un evento geologico più che un'epoca geologica è un po' come un'estinzione di massa no? l'arrivo dell'asteroide boom quello non è l'epoca quello è l'evento c'è un prima l'asteroide c'è un dopo l'asteroide ecco forse noi non siamo in una nuova epoca noi siamo in un periodo che poi a un certo punto fra migliaia milioni di anni si potrà osservare bene e ci sarà un prima e ci sarà un dopo infine c'è un terzo motivo che io sposo veramente di brutto riguarda le tempistiche perché 1952 nel senso l'umanità fa cose sulla terra da molto prima e forse ci sono dei momenti anche più importanti anche più salienti per esempio l'inizio della produzione di CO2 in modo vistoso con i combustibili fossili l'inizio la diffusione dell'agricoltura potrebbe essere una cosa rilevante l'estinzione della megafauna no? a un certo punto Homo sapiens si espande in diverse parti del mondo e guarda caso esattamente in quel motivo c'è un periodo in cui muoriono un sacco di grossi animali tutti questi eventi avvengono in tempi molto diversi e sono tutti eventi particolarmente rilevanti per me l'agricoltura è forse la cosa più rilevante questi sono i fatti conditi con qualche battuta sui geologi a cui chiedo scusa ce l'ho fatto solo per mantenere alta l'attenzione giuro non niente contro i geologi e se volete da adesso in poi vi dico qual è la mia opinione quella che ho maturato in questi anni sul concetto di antropocene a me va benissimo che i geologi non definiscano ancora che ci troviamo nell'antropocene d'altro canto questo termine si può tranquillamente utilizzare per intendere altro banalmente il fatto che siamo la più grande forza ecologica sulla terra e va benissimo così potremmo anche chiamarlo in un altro modo ormai abbiamo questa parola usiamola poi ci sono altri motivi per cui a me non piacerebbe l'introduzione di antropocene il primo è che l'olocene durerebbe torpo poco 11.000 anni per un'epoca geologica è ridicolo dopo che appunto ne abbiamo una di 2 milioni e mezzo cioè 2 milioni e mezzo 11.070 farebbe molto ridere non avrebbe molto senso come cosa così come io non credo che un'eventuale epoca umana dovrebbe partire nel 1950 l'umanità ha iniziato a fare cose vistose ben prima anche la grande accelerazione in realtà affonda di brutto nella rivoluzione industriale nella rivoluzione scientifica che c'è stata a partire negli ultimi secoli non gli ultimi 50 anni così come appunto dobbiamo affondare forse in tempi più antichi magari appunto con lo sviluppo dell'agricoltura e l'espansione umana oppure appunto la grande espansione umana che c'è stata intorno ai 40 45 mila anni fa in diverse parti del mondo a quel punto però capito cioè l'antropocene sarebbe l'olocene e posso dire una cosa ma si possono cambiare i nomi no cioè cambiamo il nome a olocene lo chiamiamo antropocene e siamo tutti felici e contenti questa è la mia proposta c'è qualche geologo che la vuole portare agli strati delle varie commissioni c'è poi un terzo motivo forse un po' più filosofico ma anche proprio molto pratico per cui non mi convince completamente no l'introduzione dell'antropocene nel 1950 e riguarda il tema della reversibilità no cioè noi ora in questo momento stiamo vivendo questo evento pazzesco ecologico pazzesco dirompente dell'umanità ok quanto è reversibile quello che sta succedendo nel senso ora alcuni trend stanno cambiando la deforestazione continua ma in alcune parti del mondo si sta invertendo io sono stato in Costa Rica che è un paese in cui a un certo punto c'è stato un massimo della deforestazione e poi nel giro di pochi anni pochi decenni tutto è tornato in un certo senso come prima almeno per quanto riguarda la percentuale di foreste ok quanto di quello che sta succedendo ora è reversibile quanto volendo si potrebbe tornare indietro su alcune cose e quindi in un certo punto lasciare meno un segno di quanto pensiamo alcune cose sono probabilmente irreversibili no l'estinzione della megafauna quella è una cosa evidente in Eurasia in Australia nelle Americhe animali grossi per lo più non ci sono più ok quella è la cosa più evidente più appunto ci avrà qualche milione di anni forse a recuperare a meno che noi non ci mettiamo lo zampino e distinguiamo alcune specie o spostiamo gli elefanti anche nelle Americhe ok capito cosa intendo cioè quanto è reversibile tutto quanto ok noi ora stiamo aumentando le concentrazioni dei gas effetto serra ma siamo sicuri che continuerà questo processo e non si possa invertire magari fra 200 anni avremo trovato un modo per riassorbire una buona fetta di quella CO2 così come magari saremo riusciti a recuperare una fetta vistosa della plastica che abbiamo buttato nei mari io non sono totalmente convinto che tutto questo sia irreversibile e a quel punto non ha molto senso considerarlo l'inizio di un'epoca geologica quindi concludendo siamo nell'antropocene da un punto di vista geologico no e probabilmente va bene così d'altro canto però antropocene non significa niente no si può tranquillamente utilizzare per intendere altro in particolare per quanto riguarda l'ambito ecologico per ricordarci che siamo la principale forza ecologica nel pianeta giochiamo costantemente come umanità a fare Dio possiamo spostare le montagne possiamo spostare i fiumi possiamo fare quel cazzo che vogliamo questa cosa è bella questa cosa è inquietante dobbiamo semplicemente però prenderne atto e se questo nome aiuta a darci una mano a prenderne atto benvenga con questo io vi saluto ciao a tutti quanti grazie a tutti